Prima di iniziare ogni diretta ho la percezione sempre molto forte di voler tornare a teatro. Una delle cose che mi manca di più in questo periodo è la possibilità di performare dal vivo. Ho un sacco di progetti legati a dei monologhi, legati a delle attività interattive con il pubblico e una delle cose che più mi manca è questo, quindi inizio con una richiesta, poi vi spiegherò appunto perché, perché è legato a questa serata. Inizio con l'intento e quindi verbalizzo dichiaro all'universo con voi testimoni che ho veramente voglia, desiderio di ricondividermi live, dal vivo, potendo realizzare alcuni dei monologhi, alcuni degli spettacoli teatrali che avevo già in programma. Perché sto iniziando questa serata con questo tipo di espressione di un mio desiderio? Perché una delle parole chiave di questa serata è proprio l'intento, verso cosa tendiamo. Ecco, non me la sono tenuta per me, ho subito condiviso qualcosa che per me è molto prezioso, cioè questo desiderio di voler riavvicinarmi a qualcosa che negli ultimi, insomma, che nel lungo periodo è stato molto difficile. Se non sarà possibile esistenza inizierò a farlo online. Quindi, vedete, sto già iniziando a settare il mio intento, quindi il mio intento è quello di poter rifare degli spettacoli, delle interazioni dal vivo, potendo contattare il pubblico, che è una delle mie passioni. È una di quelle cose che mi dà una certa percezione di bliss. Bliss è un'altra parola di cui approfondiremo questa sera. Nel frattempo, però, condivido la possibilità anche di alternative, quindi se vi vengono in mente alternative, soluzioni, affinché io possa continuare a condividere questa parte più performativa, più teatrale, sempre legata alla consapevolezza, vi invito a condividerla, a farmi sapere, a darmi suggerimenti. Come avete notato, quindi, sto entrando subito nel vivo di un mio intento. Questa cosa non era programmata, nel senso che parte della mia, diciamo così, qualità animica è quella di aver integrato molto bene uno degli archetipi che più adoro, che è l'archetipo del pazzo, l'archetipo del folle, l'archetipo di colui che gioca e l'archetipo di colui che improvvisa, che è originale nel momento, che non ha bisogno di copiare. Ecco perché mi permetto, nonostante abbia sempre tremila schemi, cose che vi voglio raccontare, eccetera, poi alla fine vado sempre con il matto, nel senso che predomina quel tipo di energia che vive in questo momento. Questa sera, ad esempio, la vita si diverte ad aver inserito il fatto che io debba accettare le persone, le devo accogliere. Questo è interessante perché io non metto mai password, lascio sempre tutto quanto libero anche nei webinar, eppure adesso la vita mi sta obbligando ad accogliere uno per uno le persone. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che mi sta in qualche modo invitando a fare una selezione. E questo è molto interessante perché ci riporta al tema degli intenti. Per poter formulare con chiarezza un nostro intento, dobbiamo avere chiarezza dentro di noi. E per avere chiarezza dentro di noi, dobbiamo avere il tempo e lo spazio di un ascolto autentico. E per avere il tempo e lo spazio di un ascolto autentico, abbiamo bisogno di selezionare. Abbiamo bisogno di essere integri con lo spazio energetico che coltiviamo. Essere molto vigili a dove disperdiamo, a dove accumuliamo energia. E questo ci riporta ad un altro bellissimo archetipo, che ha a che vedere con il creatore. L'abbiamo parlato molto nell'ultima diretta dedicata alla vocazione. Perché il creatore ha proprio la possibilità di mettere al servizio la propria energia creativa. E il viaggio dell'eroe è esattamente questo. Essere consapevoli di quella che è la nostra ricerca di beatitudine, in un modo bellissimo, Campbell, che è uno degli esperti più grandi del viaggio dell'eroe, definisce proprio in una frase molto semplice, che è Follow your bliss. E in italiano la traduzione sarebbe un po' quella di Segui la tua beatitudine. E tutti mi dicono, eh ma sembra facile, ma in realtà è la cosa più, è la base di ogni cosa, è la cosa più semplice. Dobbiamo iniziare a selezionare e a renderci conto cosa non ci fa seguire in questo momento la nostra beatitudine. Questo è molto importante perché noi abbiamo la possibilità di passare Ad un certo momento davanti al telefono che continua a suonare. Immaginate per un attimo, questa è una delle performance che vorrei tornare a fare anche dal vivo. Immaginate per un momento di continuare a passare in una stanza dove continua a squillare il telefono. Confidate con me che una parte di voi sarebbe invogliato a tirar su quella cornetta, a rispondere a quella telefonata, a rispondere a quella call. Ecco, la maggior parte di noi ancora in qualche modo preferisce essere vittima della propria vita e non eroe della propria vita. È per questo che adoro il lavoro con gli archetipi e con il viaggio dell'eroe, perché ci permettono di andare a fondo su quelli che sono degli archetipi molto individuali che in questo momento specifico della vita non permettono a ciascuno di noi di rispondere a quella chiamata, di uscire finalmente dal ruolo di vittima e entrare nel ruolo di eroe della propria vita. Perché la cosa bella di ogni archetipo è che ha una parte in qualche modo d'ombra e quella parte di ostacolo fa arrivare proprio per essere superato. È grazie agli ostacoli che tiriamo fuori il meglio di noi, per questo questo viaggio è così prezioso. Ma dietro ad ogni archetipo, dietro ad ogni ostacolo, c'è anche la conquista, l'integrazione di quella qualità animica che non solo ci servirà per attraversare l'ostacolo, ma che ci servirà poi per metterci al servizio in ciò che la nostra beatitudine, la nostra chiamata sta aspettando che noi possiamo seguire e quindi condividere. Mi direte, ok, ma cosa c'è di particolare in questo tipo di lavoro? Basta leggere un libro, ce ne sono tantissimi sul percorso dell'eroe. Ecco, nella mia esperienza la teoria non funziona, o meglio, è bellissimo leggere, è bellissimo ascoltare delle parole, ma la mia esperienza, la tipologia di lavoro che io offro ha a che vedere con l'esperienza diretta, ha a che vedere con l'integrazione. Vi faccio un esempio. Lunedì inizierà questo percorso che ho veramente tanto a cuore legato all'arte evolutiva e oggettiva e abbiamo già scelto il primo tema su cui creeremo, lavoreremo, che sarà quello del giudizio. Adesso immaginate, io posso tenere una conferenza di ore e ore sul giudizio, oppure ognuno di noi può veramente fermarsi e iniziare a sentire questa parola, cosa significa per lui in questo momento. E come fa questa cosa? Inizia a percepire questo tipo di vibrazione, inizia a percepire cosa si nasconde dietro al giudizio e poi trova la modalità, in questo caso grazie alla mia facilitazione, di integrarla attraverso un'azione, attraverso una creazione, attraverso una interazione. E' come mangiare qualcosa, digerirlo e poi far sì che questa energia che abbiamo digerita sia di nuovo al servizio, quindi emagna attraverso di noi in un'altra forma, in un'altra modalità, si sia integrata, si sia incarnata. E questo è un processo molto diverso dal semplice leggere, perché quando in qualche modo siamo sostenuti e facilitati a entrare in quella cosa lì che ci dà fastidio, quella cosa lì che eviteremo molto di ascoltare, sia nella parte d'ombra, ma soprattutto nella parte della qualità evolutiva, adesso ci arriviamo, perché noi abbiamo paura spesso di integrare la nostra luce, di poter veramente brillare in quello. Quindi si dice che a livello alchemico possiamo evolvere attraverso le emozioni inferiori, quindi sicuramente integrando le ombre, integrando quelle che sono delle difficoltà che ci permettono di tirar fuori il meglio di noi. Ma siamo aggiunti, nella mia percezione, o almeno iniziamo ad essere in un'era dove siamo pronti come generazione ad un salto più importante, e cioè iniziare ad integrare le qualità evolutive di ogni archetipo, di ogni ostacolo. Ipotizziamo, ad esempio, che abbiamo parlato della giustizia, del giudizio fino adesso, che una delle sue qualità evolutive sia l'equanimità, la neutralità, l'accoglienza. In che modo possiamo iniziare ad integrare ed esprimere queste qualità? In modo che la prossima volta che ci confronteremo con l'ostacolo del giudizio, avremo a nostra disposizione un sostenitore, avremo a disposizione una frequenza che abbiamo già attivato interiormente. Questo è il lavoro che mi piace fare con le qualità evolutive dell'anima, con le qualità superiori, iniziare ad attivarle dall'interno e attraverso una pratica concreta, che molto spesso accade attraverso l'espressione, in tantissime forme, che questo è quello che poi si fa dal vivo, o meglio, spero di farlo dal vivo con alcuni o molti di voi. Il prossimo, non questo, il weekend dopo, saremo a Castiglioncello, in questo posto che per me è magico. Ho scelto questa location che è la casa di un'amica che ha a disposizione vari posti letto, perché è sul mare, cioè noi abbiamo proprio questa casa sulla scogliera. E tutto ciò che ha a che vedere con delle frequenze che vanno integrate, viene facilitato tantissimo dalla presenza dell'acqua. L'acqua ha una memoria straordinaria, ha proprio una memoria atavica. E possiamo sia connetterci a lei per poter permettere un flusso diverso delle emozioni, e quindi tutte le parti ombra che emergeranno, ma possiamo anche fare affidamento a lei per una saggezza molto antica, che è proprio quella che ci riportano gli archetipi. E anche perché la cosa più bella è che all'acqua possiamo donare. C'è una frase molto bella che dice che il serpente che non cambia pelle deve morire. Ecco, una delle cose più belle di entrare a contatto con gli archetipi è proprio quello di permetterci di fare dei salti. Ogni volta che incontriamo un archetipo, la sua forza, la sua energia si impossessa di noi. E quindi lasciamo andare una vecchia pelle. Quindi, tornando a quello che dicevamo all'inizio, quanti di voi hanno voglia di iniziare ad essere eroi della propria vita e non le vittime della propria vita? Perché il punto focale è quello di smettere di dare la responsabilità fuori e di iniziare a prendere totalmente la nostra responsabilità. E' lì che inizia il viaggio dell'eroe ed è lì che iniziano gli incontri più belli con tutti quanti gli archetipi, che sono veramente così antichi come è la nostra coscienza. Perché è proprio uno strumento che ci permette, sono dei semi primordiali, che sono così radicati dentro di noi, che quando iniziamo a dargli attenzioni inevitabilmente iniziano a germogliare, proprio come i semi che si iniziano ad innaffiare. Ok, abbiamo iniziato con una piccola introduzione. Vediamo se ci sono nel frattempo delle domande, delle condivisioni. Spero che nel frattempo Milena sia riuscita a sentirmi. Ecco, ditemi un po', secondo voi, qual è l'archetipo del rallentare, come stiamo facendo adesso? Che qualità ha? Di chi stiamo parlando? Potete anche scrivermi, eh? Abbiamo un po' accennato all'archetipo delle folle, abbiamo un po' accennato all'archetipo del distruttore della morte, abbiamo un po' accennato all'archetipo del creatore. Se vuoi una nuova nascita, una nuova rivelazione, per crescere come essere umano, imparerai a continuare a morire. Questa è una delle frasi che amo di più. Senza morte non c'è vita, senza morte non c'è trasformazione, non c'è cambiamento. E nel momento in cui realizziamo che è solamente un morire a delle vecchie forme, è lì che il viaggio dell'eroe si apre a noi con tutta la sua potenzialità. Bene, visto che non ci sono ancora dei commenti, torniamo un attimo a parlare degli intenti. perché è molto importante ed è molto connesso al lavoro proprio con il viaggio dell'eroe, il lavoro con gli intenti. In che modo sappiamo esprimerli consapevolmente? All'inizio della diretta abbiamo un po' fatto un esempio personale del modo più semplice con cui iniziare a formulare un intento. Sicuramente qualcosa che nasce dal cuore, quella passione, quella chiamata, quel qualcosa che siamo veramente attratti a emanare, a prescindere da qualsiasi tipo di risultato, da qualsiasi tipo di ritorno economico, da qualsiasi tipo di risposta esterna. E che nel formularlo ci fa cogliere profondamente quanto siamo già a fuoco in quel tipo di richiesta. Perché più riusciamo ad essere precisi, più vuol dire che abbiamo fatto già un lavoro di integrazione dentro di noi. E questo lavoro viene proprio fatto grazie ad un ascolto e grazie ad un sostegno nel comprendere quali sono le ombre, quali sono gli ostacoli che ancora stiamo ascoltando, a che cosa ci stiamo ancora aggrappando, a cosa stiamo ancora dando il nostro potere, la nostra responsabilità, per che cosa ci fa ancora piacere sentirci un po' vittime, lamentarci un po'. L'altra domanda che avevo invitato a riflettere per questo webinar era quanto tempo e spazio di qualità ci prendiamo per formulare questi intenti. Gli spazi in cui ci incontriamo, soprattutto nei gruppi, soprattutto nei seminari, negli incontri anche dei percorsi, hanno proprio questo tipo di intento, quello di creare uno spazio sacro, quello di creare uno spazio in cui l'energia è compressa, in cui l'energia è esponenziale perché più persone si mettono insieme con un intento comune. che è quello, anche se l'intento personale può essere diverso, ma in generale è l'intento di portare più luce, dentro di noi quindi inevitabilmente fuori, e in questo si è sostenuti. Ogni volta che i nostri intenti sono autentici, che veramente nascono da una purezza d'animo, abbiamo il più grande sostegno di tutta l'esistenza. Siamo solo noi che non ci crediamo. Siamo solo noi che abbiamo bisogno di sentire quella fiducia, quella presenza. In che modo coltiviamo, alleniamo, curiamo ed espandiamo, rendendole sempre più presenti e vive le qualità evolutive che la nostra anima ci richiede di realizzare e condividere in questa vita. Condividevo in una delle ultime dirette delle esplorazioni che in quest'ultimo periodo mi è capitato di fare all'interno delle vite passate e di quanto questo mi abbia permesso di mettere a fuoco che le qualità evolutive che ognuno di noi ha scelto di rendere più forti in questa vita, spesso sono molto personali e danno a che vedere con percorsi pregressi che abbiamo fatto. È per questo che il lavoro con gli archetipi può essere così rivelatorio. Perché è possibile che solo iniziando a sentire i loro nomi, solo iniziando a sentire alcune di queste qualità che adesso vi leggerò, possiate veramente iniziare a dire è lì, è lì che devo andare, è lì che so che mi manca ancora un terreno fecondo. Perché dentro di noi, animicamente, noi sappiamo esattamente cosa ci sta richiedendo questo percorso. Pensate all'archetipo dell'angelo custode. Sentite cosa dentro di voi fa risuonare la parola il tipo volontà. Cosa accade se sentite la frequenza della parola meraviglia, connessa con il fanciullo? Oppure la parola piacere, connessa con l'amante? Oppure la parola leader, connessa con il sovrano? O la parola invisibile, intuizione, connessa con il mago? E pensate che bello entrare nel vivo, nell'esplorare le ombre che non ci permettono di entrare totalmente in questi archetipi. Beh, io sono un po' di parte perché ho una grande passione per queste tematiche, quindi non sono obiettiva, mi illumino quando sento certe parole. Però mi fa piacere sentire un po' voi. Qualsiasi cosa che fino adesso vi ha in qualche modo ispirati, toccati, confusi, innervositi. Quello che vi innervosisce è il top. Si parte sempre da lì. Ciao, buonasera, Gaffa. Ciao, Marino. Ciao, sono sempre Elena Giuliani, sono Marino. Ciao, buonasera. Ad esempio, Marino, all'interno del lavoro degli archetipi sarebbe un discorso molto bello da fare. Poi, vedete, se voi intervenite io riesco ad andare anche un po' nel personale, che fa parte del mio lavoro. Come raccontavo, non mi ricordo più quando, una delle mie formazioni è stata all'interno di gruppi piccoli, quindi di periodi molto intensi, con una guida, dove il lavoro veniva molto personalizzato. E quindi inevitabilmente la mia integrazione di molto del lavoro è proprio grazie ad un lavoro più individuale, più personalizzato, che arriva a livello intuitivo appena la persona emerge. È come un campo di creare qualcosa, entra in contatto e permette questo scambio. Ad esempio, parlando di archetipi, il fatto che Marino stia continuando ad usare come intento la frequenza che non è la sua, quindi un altro nome, è qualcosa che ci fa comprendere che da qualche parte ha delle resistenze a emergere con il suo proprio nome, con il proprio esserci, con il proprio essere sovrano di se stesso. Marino, ti ho preceduto, scusa, mi prego, vai. No, io ti ascolto volentieri, nel senso, alla fine c'è quello che, diciamo, mi riconduce a te in tantissime... ciò che mi resta difficile a me, dato che non ho una proprietà di linguaggio come la tua, mi resta difficile spiegare certi concetti. Mi resta più facile riprodurre ciò che dici, diciamo, nelle tele. Però sento molto in te, diciamo, ricontattarsi con la verità, con rientrare in contatto con il tutto, cioè il fine che sento in te è proprio ricondursi al tutto e liberarsi, entrare in una dimensione espansiva. E questa cosa qui, diciamo, la sento oggi, l'ho già risentita in te in altre occasioni che ti ho ascoltato e questo mi riproduce in me ciò che già sono già entrato in questo, diciamo, questo mio percorso personale e lo riscontro attraverso te ciò che io sto già vivendo. E questo... Grazie. Grazie. Scusa se ti interrompo perché voglio essere al servizio. Ti ringrazio per la risonanza, però il mio invito è quello di andare a toccare più che ciò che ci risuona che è molto bello, ciò anche che ci vuole far fare quel passaggio in più, ciò che ci vuole far fare quello step in più del viaggio dell'eroe. Ecco, questo per me è molto importante. Quindi mettere a fuoco che cosa dentro di noi in questo momento ci sta ostacolando, non ci permette di fare quel salto. Quindi è importantissimo sentire ciò che ci risuona e allo stesso tempo essere molto onesti. L'autenticità, l'onestà è una delle chiavi sul percorso personale nella mia esperienza. Quindi più che, naturalmente questo è per tutti, più che rilassarci in ciò che abbiamo già compreso, in ciò che ci risuona, andiamoli a vedere dov'è che stiamo resistendo, andiamoli a vedere dov'è che c'è quel tipo di appunto freno per andare totalmente nel viaggio dell'eroe. Quello che come esseri umani siamo chiamati a fare è proprio attraverso degli ostacoli raggiungere un potenziale sempre più grande. E quindi è meraviglioso il mettere a fuoco che cosa è stato già realizzato e allo stesso tempo con la stessa responsabilità comprendere lì dove ce la stiamo ancora raccontando. E quindi sentire e individuare ad esempio in questi archetipi o nelle qualità superiori dell'anima quelle che ancora sentiamo che non abbiamo o che vorremmo integrare. Adesso ad esempio ciascuno di voi che sta ascoltando ha chiaro dentro di sé qual è una qualità animica che veramente non ce la fa ad integrare, che veramente ancora ha una grande resistenza. potrebbe essere qualsiasi cosa potrebbe essere l'accoglienza la pazienza e potrebbe essere la volontà la costanza potrebbe essere di nuovo un contatto con il piacere quindi con la vitalità potrebbe essere qualcosa che ha a che vedere con la propria espressione qualcosa che ha a che vedere con il servizio sono tantissime le qualità animiche collegate a ciascuno degli archetipi. Una delle cose più semplici per renderci conto qual è quella qualità che ancora in qualche modo non riusciamo ad integrare è vedere chi ci dà molto fastidio pensate ad una persona che vi dà estremamente fastidio anche attraverso dei personaggi pubblici e provate a iniziare a pensare qual è la qualità che in qualche modo da quel fastidio percepite che è una qualità che invece invidiate che vorreste avere. un altro modo molto in molto interessante è renderci conto che possiamo fare un esercizio che è chiedere anche a una due o tre figure possono essere delle figure religiose mitologiche storiche gli possiamo chiedere per un po' di incarnarsi in noi cioè gli possiamo chiedere di veramente portare un po' del loro vissuto dentro di noi se questa richiesta se questo intento viene espresso in modo molto chiaro e se abbiamo contattato quella figura che veramente in questo momento ci è utile inizieremo a vedere che nella nostra vita accadranno delle similitudini con ciò che è la vita di questa persona e quindi avremo la possibilità di iniziare a vedere come funziona l'intento e come funziona anche il processo di imitazione che può essere interiore può essere proprio qualcosa che noi richiamiamo a noi ok qualcuno mi scrive le relazioni ma non so a che cosa si riferivano forse l'integrazione magari scrivetemi meglio nel dettaglio bene in che modo posso esservi utile vorrei meno far teoria perché per quello c'è tanto tempo ma mi piace fare degli incontri interattivi altrimenti fare solo delle dirette su facebook proprio per poter essere al servizio di quello che può venire fuori adesso ecco ad esempio la fiducia in sé questo è molto molto bello la fiducia in sé è una delle qualità che ci dona proprio il percorso con l'eroe che ci dona una possibilità sia dell'archetipo del guerriero e quindi il tipo volontà e sia il tipo l'archetipo creatore perché di base quello che veramente noi non riusciamo ad integrare la fiducia in sé è che non abbiamo abbastanza coraggio per esporci io racconto sempre che non avremo mai quell'attestato quel documento quel certificato che ci renderà abili adeguati a fare qualcosa ma noi avremo la piena consapevolezza che siamo chiamati a fare una certa cosa che la sappiamo fare bene solo in un modo iniziando a farla iniziando a metterci in gioco in quello e che cos'è il guerriero se non colui che trova il coraggio di iniziare ad esporsi è per questo che certi contenitori dove iniziamo ad esporci in modo protetto sono così funzionali per iniziare a fare i primi passi per iniziare ad essere guerrieri il guerriero sa che deve entrare profondamente nelle proprie paure perché la mancanza di fiducia in noi stessi è solamente questo un non aver compreso che in quelle paure in quelle ombre c'è un grandissimo dono quindi più che aver in qualche modo difficoltà ad aver fiducia in noi stessi mettiamo a fuoco quale sono le nostre paure e lì troveremo la chiave per avere la fiducia questo è il lavoro bellissimo che si fa con l'ombra legata agli archetipi legata alle qualità evolutive le relazioni sono le qualità che non riesco ad integrare ecco questa frase però comprendete che non è specifica vuol dire che non c'è un ascolto ancora chiaro dietro provate a renderla molto più specifica per rendere specifico qualcosa vuol dire che avete bisogno di iniziare ad interrogarvi cosa vuol dire non riusciamo ad integrare le qualità delle relazioni qual è la qualità specifica della relazione che non riusciamo ad integrare questo è il lavoro di autoindagine che io amo fare andare nel concreto nello specifico non rimanere nella teoria mentre si riflette meglio su questa domanda e magari mi rispondono vado avanti il giudizio mi dà fastidio e mi rendo conto che è molto presente in me ma molto difficile da superare la mia mancanza di fiducia è data dal costante giudizio ok il giudizio spesso è un giudizio a due facce apparentemente il giudizio che noi abbiamo verso gli altri il giudizio che noi abbiamo verso noi stessi quando iniziamo ad integrare a comprendere che il giudizio verso gli altri è solamente uno specchio del giudizio verso noi stessi mettiamo a fuoco in che cosa non ci andiamo bene di nuovo ma in che modo noi possiamo renderci conto che andiamo perfettamente bene se non iniziamo ad esporci se non iniziamo a condividerci se non iniziamo a tirar fuori altrimenti è una scusa è molto semplice rimanere nel ruolo di vittima comunque chi mi ha fatto questa domanda inizierà presto il percorso di incoraggiarmi quindi non ti preoccupare che lì verrai come dire non solo spronata ma veramente sgrullata totalmente nelle sporti perché è molto importante inizialmente avere proprio questo tipo di spunzecchiatura renderci conto che più veniamo spunzecchiati esternamente più possiamo cogliere quello con un aiuto e allora comprenderemo dall'esterno gli spunzecchiamenti della vita in modo diverso bene è molto bello ogni volta che faccio delle pause rendermi conto che non è di moda fare delle cose lunghe una ragazza che un'amica che mi rito con i social mi dice che dovrei fare spesso cose più brevi dovrei scrivere cose più corte dovrei fare video più corti perché l'utente medio si muove in continuazione ma a me non interessa l'utente medio a me interessa chi vuole coltivare quello spazio di vuoto provate per un attimo adesso qualsiasi cosa dirò a non soffermarvi troppo sulle parole in sé ma sentire solamente quegli spazi di vuoto tra una parola e l'altra perché quella è una delle qualità evolutive animiche chiamiamole in vari modi superiori più sacre è quello spazio di vuoto è quello spazio infinito è quello spazio di piena presenza ed è da lì che mi interessa lavorare che mi interessa condividere è in quello che mi interessa essere e condividerci ok qualcuno racconta che l'insicurezza personale raddoppia quando si è in due non è che raddoppia è solamente che abbiamo uno specchio ravvicinato fantastico per lavorare le persone che ci sono vicino possono essere usati in una modalità eccezionale perché sono dei grandi acceleratori è per questo che invito così spesso a lavorare in gruppi soprattutto in piccoli gruppi perché riusciamo a non scappare dagli specchi riusciamo ad entrare nell'immediato di questo tipo di fastidio ma se invece di accusarci sentirci sbagliati per la nostra insicurezza noi potessimo iniziare ad esprimerla potessimo iniziare semplicemente ad integrare l'archetipo dell'innocente del fanciullo che non ha timore di mostrare la propria vulnerabilità il proprio essere così com'è quanta forza potremmo riscoprire e ritrovare lì provate per un attimo a percepire la potenza che ha un bambino nel suo mostrarsi così com'è se ha bisogno o voglia di piangere di piangere se ha bisogno o voglia di ridere di farlo e in questa autenticità questa è una delle qualità animiche più belle può permettersi il pieno senso di meraviglia perché è presente a se stesso provate a sentire questi occhi grandi del bambino che guarda che scopre abbiamo perso questa meraviglia no è dentro di noi è solo un po' addormentata e ogni volta che andiamo all'avventura ogni volta che iniziamo il viaggio dell'eroe ogni volta che ci determinati incamminiamo di nuovo nel riconquistare le qualità antiche abbiamo la possibilità di avere l'incoscienza la bellezza del bambino che inizia un'avventura bene che dire se non che vi invito veramente con tutto il cuore ad esplorare insieme questi archetipi queste qualità e da loro gli intenti che in questo momento per voi sono fondamentali perché quando inizierete a sentire qual è l'archetipo e quali sono le qualità che più vi richiamano da lì avrete anche la possibilità di esprimere con chiarezza l'intento prioritario in questo momento nella vostra vita è un gioco conseguenziale in cui ognuno di questi tre punti si ricollega all'altro e spero veramente di poterlo fare insieme dal vivo per chi ci sarà a costiglioncello altrimenti ci accontenteremo anche dell'online visto che molti mi hanno chiesto di iniziare questo percorso anche online per molti l'infanzia è un ricordo di esperienze terribili come fa chi non ha memoria di un sé bambino così autentico a cui rifarsi questa è una bellissima domanda noi abbiamo sempre la possibilità di tornare a questo spazio innocente perché innocente è lo spazio di vuoto che già siamo più quindi si coltiva quella connessione con l'essere quella connessione quella consapevolezza quella realizzazione che noi siamo a prescindere dalla nostra storia a prescindere da ciò che è stato e ciò che sarà queste qualità ci appartengono già perché fanno parte dell'essere che siamo e l'essere che siamo non ha che vedere con il personaggio per questo ricontattare gli archetipi è così bello perché non ha che vedere con la nostra storia sono delle energie delle frequenze dei semi delle potenze che ci appartengono da sempre a prescindere dalla nostra storia personale quello che possiamo fare però è onorare la nostra storia personale perché se abbiamo scelto di avere delle esperienze di un certo tipo possiamo comprendere quelle esperienze quale tipo di qualità evolutive hanno chiesto di far sì che in questa vita noi potessimo veramente tirar fuori e quindi poter comprendere che tipo di ferite abbiamo in qualche modo attraversato nel nostro viaglio dell'eroe finora possiamo comprendere da quelle ferite quali sono le armi quali sono gli strumenti che avremo nel percorso del viaggio spero di avere un po' risposto vi lascio ancora qualche minuto per scrivere e vedo intanto se tra le varie cose che volevo raccontarvi chissà quante ancora non ne ho raccontate sicuramente uno dei temi importantissimi nel viaggio dell'eroe non solo è legato al cambiamento ne abbiamo parlato all'inizio con l'archetipo della morte ma è fondamentale iniziare a entrare in contatto con il controllo perché ogni volta che vogliamo mantenere il controllo vuol dire che abbiamo paura di cosa abbiamo paura di quale cambiamento se noi ritroviamo un altro tipo di potere un altro tipo di ascolto un seguire un flusso molto più saggio il controllo svanisce perché ci rendiamo conto che è legata alla mente che è estremamente piccola non ha nulla a che vedere con questa saggezza infinita è un'altra parola che mi piace tantissimo nominare è la parola legata al rimpianto siamo qui per esprimere il nostro pieno potenziale ora il nostro viaggio dell'eroe può iniziare ora quel telefono che squilla possiamo prenderla la cornetta ora chiedete a tante persone che sono improvvisamente impossibilitate di fare una certa cosa o persone che sono in punto di morte dialogate con loro sui rimpianti e improvvisamente troverete una grandissima forza per iniziare il vostro viaggio per smettere le vostre lamentere ed uscire dalla figura della vittima perché sentirete tutti i rimpianti di chi ha percepito di non aver vissuto pienamente il dono di questa vita di non aver fatto di questa vita la sua opera d'arte e di non aver compreso che proprio questi arcani proprio questi archetipi sono dei poteri a nostra disposizione per la nostra evoluzione follow your bliss bene cari un'ultima scorsa a qualche altro appunto e poi ci salutiamo così vediamo se intanto volete scrivere qualcosa altro c'è un'altra parola che mi era appuntata che volevo condividere con voi ed è la parola coerenza è una delle parole che io amo di più e che si è trasformata di più all'interno del mio percorso evolutivo soprattutto nella vicinanza con delle guide con dei maestri mi sono resa conto che la coerenza che prima immaginavo essere legata a delle diciamo a qualcosa di concatenato nel tempo quindi se oggi penso questo domani favo questo e invece ho iniziato a scoprire una coerenza totalmente diversa che è una coerenza intima di un sentire in quel momento è possibile quindi che ci sia stato un sentire ieri totalmente diverso da adesso e la mia coerenza è in questo istante e molto spesso è con una chiamata totalmente diversa da quella che è una chiamata logica e quindi rispondiamo a qualcos'altro in quello è meraviglioso affinare la coerenza tra cervello e mente quando il cervello è la parte più saggia di noi la parte che accede a delle consapevolezze non al controllo perché altrimenti non è coerenza è opportunismo nella mia esperienza è paura è qualcos'altro un'ultima cosa che mi ero appuntata vi avevo già condiviso all'inizio dell'incontro l'importanza dello fare spazio non possiamo avere degli intenti chiari se non lasciamo spazio all'intuizione cioè se facciamo troppo casino dentro e fuori non ci sentiamo quindi riavere quegli spazi come dicevo prima mentre bevevo questo famoso orzo questi spazi di silenzio tra le parole tra le azioni quanto sono consapevoli nella nostra quotidianità quanto questo spazio è prioritario quanto siamo consapevoli del silenzio mentre agiamo mentre ascoltiamo questo è uno degli archetipi più belli che ha a che vedere proprio con il silenzio che non è un silenzio di non parole è un silenzio di pensiero è un silenzio di agitazione è un silenzio di voler arrivare no è un silenzio dell'essere è quell'essere costantemente focalizzati sul fuori su ciò che manca fuori e non aver messo a fuoco il dentro se noi andiamo sempre a lavorare in quel dentro in quel rumore interiore è lì che riusciremo a trovare un certo tipo di comprensione del perché c'è questo rumore l'archetipo del silenzio a quale mito può essere associato e questa è una domanda che è arrivata da te quindi ti suggerisco di dirmelo tu i miti sono estremamente personali per questo io preferisco parlare degli archetipi e non dei miti perché ci sono miti in tantissime tradizioni diverse e in tantissime modalità diverse ma un mito specifico che ci chiama a noi ha una sua potenza incredibile quindi ti invito per favore a dirmi qual è il mito che trovi associato al silenzio e tu ne potrei dire tantissimi ma non sono interessanti è interessante quello che mi racconterai tu bene grazie ecco quello ha proprio a che vedere con lo scendere Persephone con che cosa a che vedere Persephone qual è la parola che associa Persephone le ombre fantastico l'inferno le inferi il buio ti invito a entrare con me in questo tipo di grotta ma non come me Daphna con chiunque possa essere per te uno specchio di quelle tue parti che vuoi illuminare perché sei sempre tu che cerchi trovi crei quegli specchi attraversare sostare incarnare fare esperienza bello è anche molto bello ascoltare sì assolutamente è bellissimo ascoltarci bene un'ultimissimissima cosa una delle azioni una delle pratiche una delle sperimentazioni che faremo molto in questo percorso sia dal vivo in questo weekend sia eventualmente per chi non ci sarà online anche se naturalmente è diverso ma penso che possiate capirlo è un lavoro con i simboli gli archetipi le qualità evolutive a me piace moltissimo lavorare attraverso i simboli i simboli permettono alla nostra mente conscia di comunicare con il nostro inconscio e quindi con quella che è una mente universale ed è un lavoro meraviglioso perché è entrare in un linguaggio estremamente potente che poi ci ritorna cosa accade quando imprimiamo in un'immagine in un simbolo un certo tipo di intento un certo tipo di ombra un certo tipo di trasmutazione cosa accade poi ritornando in contatto con quel simbolo con quel tipo di espressione con quel tipo di disegno ecco questa è una delle pratiche che mi entusiasma bene spero di avervi archetipizzato un po' e spero di vederci presto dal vivo altrimenti di nuovo su questi schermi scrivete riflessioni commenti anche poi su facebook così andiamo un po' avanti in questa condivisione ricordatevi del mio intento iniziale e del modo in cui potete prendere spunto per formulare dei vostri intenti dichiarateli se volete scriveteli mandate una registrazione fate sentire la vibrazione della vostra voce è fondamentale questo è uno dei lavori che viene fatto molto bene in presenza qualcuno mi scrive che è in confusione totale fantastico quello che emergerà dalla confusione emergerà anche solo una parola quella sarà fondamentale ti prego di condividerla grazie a tutti ragazzi è stato sempre molto bello stare insieme e ci vediamo molto 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 presto ciao ciao